Una rete di Ilaria di Battista al 26esimo del primo tempo consente alla SD femminile de Scala di ottenere il punto decisivo con tre giornate di anticipo e festeggiare la matematica vittoria del campionato di Serie C ed il conseguente approdo a quello di Serie B nazionale. Di fronte la squadra dei mister di Persio e Pingiotti aveva la diretta concorrente al titolo Porto San Deppiglio, agguerrita avversaria distante appena sette lunghezze dalle pescaresi. 20 vittorie e due pareggi con 83 gol fatti e 7 subiti e questo l'incredibile cammino del femminile de Scala che è chiamata l'ultimo sforzo di una stagione esaltante. La posta in patio non ha permesso però ai locali di esprimersi come al solito e dopo un abbio equilibrato al 22esimo Sara Ranzuglia approfitta di una dormita della difesa pescarese e porta in vantaggio le ragazze di mister Luciano, ci scusiamo per la mancanza delle immagini del gol del numero 10 ospite. Appena 4 minuti più tardi come detto in avvio il Pescara trova il pari, sfruttando al meglio un piazzato ben calciato da Rosa Maria Paolini classe 99 che mette in grande affanno la difesa mattigiana permettendo così a una lestissima e l'aria di Battista di siglare quello che probabilmente possiamo considerare il gol più importante della stagione bianca-azzurra. Il Porto Santerpidio però da grande squadra qual è non ci sta e prova a reagire con il suo capitano Lanciotti che si gira bene al limite dell'area e prova a sorprendere Evangelista. Poi la stessa Lanciotti semina panico nel cuore dell'area di rigore pescarese, la sfera finisce sui piedi del numero 11 Rastelli, Debole imprecisa la sua conclusione. Il tempo si chiude con un'azione offensiva del Pescara, il numero 9 Benedetta Primi trova il tempo di battere a rete, palla che finisce distante un metro dalla porta difesa da Medori. Nella ripresa il Porto Santerpidio continua a spingere alla ricerca di una vittoria che riaprirebbe il discorso campionato e va vicinissimo al gol del vantaggio. La solita Lanciotti fa fuori l'intera retroguardia bianca-azzurra ma deve fare i conti con la strepitosa risposta di Rebecca Evangelista che prima con un guizzo felino manda la sfera sul palo poi a branca in presa. Pescara vuole chiudere la contesa in un paio di situazioni, va vicinissimo al gol del vantaggio. E strappa applausi l'azione di contropiede delle pescaresi imbastita dalla giovanissima Lazzari e conclusa da una cavalcata impressionante di Giulia Fusco che si traveste da Cristiano Ronaldo e va vicinissima a un gol che avrebbe avuto del memorabile. Ancora Giulia Fusco entrata nella ripresa e una vera e propria spina nel fianco della retroguardia del Porto Sant'Elpidio e va vicinissima al gol del 2-1 direttamente da calcio piazzato battuto a pochi minuti dal termine della contesa. Non c'è più tempo, il direttore di gara fischia la fine delle ostilità, il punteggio di 1-1 premia il femminile Pescara che va a godersi la meritata festa, promozione e serie B nazionale. Bologna shit! No c'è più tempo, paio il femminile! No intit covenant, programmate? Sve καlige il amore SUヒ metà? Sve trance la cap quota di 이�uche degli मietti! Sve c'è più tempo! Distattata! Sveicare! Mod α scripture medi versini! Modag Xiaomi, since lista siete Ready matters! La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. La capolista se ne va, la capolista se ne va, la capolista se ne va. La capolista se ne va, 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 la capolista se ne va We will overcome, stand up, we'll be the number one Together, we will rise again Together, we will play the game Together, we are one the same Together, winning is our only... Due parole a caldo per commentare questo successo, questa annata straordinaria Sicuramente è stata un'annata fantastica Abbiamo iniziato un pochettino in sordina La squadra è effettivamente stata già all'inizio Ha dimostrato già che è stata una squadra abbastanza forte Il campionato, nonostante tutto Risultato un campionato molto difficile Perché c'erano almeno 4 o 5 compagini Non ultima quella di questa sera Il Porto Sant'Empidio che ci ha dato il filo da torcere Che hanno reso questo campionato molto interessante Ce la siamo giocati fino alla fine Anche se siamo riusciti con qualche giornata di anticipo A guadagnare questa promozione secondo me molto meritata È stata una marcia trionfale, possiamo dirlo Perché nonostante la concorrenza La vostra squadra ha dimostrato sul campo Di meritare questo successo Proprio vincendo di gran lunga Cosa ci può dire? Qual è stata la cosa in più Che Pescara ha messo in campo rispetto agli altri squadri? L'arma vincente? Sicuramente noi abbiamo lavorato molto Con la politica del gruppo Abbiamo cercato di far crescere Quanto più possibile le ragazze più piccole E questo ci è costato un pochettino di lavoro in più Però sicuramente C'è costato qualche sacrificio in più Tutto merito dello staff tecnico, della società Ma soprattutto per le ragazze Soprattutto per le ragazze Soprattutto per le ragazze Che veramente si sono applicate Soprattutto per il campionato Molte ragazze, diciamo, le più piccoline Sono cresciute Prova provata Che anche l'ultima partita Forse è la propietà più importante E hanno trovato spazio per giocare Sicuramente, ecco la domanda, rispondo La politica del gruppo Nel far crescere il gruppo È stata l'arma vincente di questa squadra Va bene, Ministro La ringraziamo Ne facciamo godere la festa La ringraziamo Un Capitano C'è solo un Capitano Un Capitano C'è solo un Capitano Un Capitano C'è solo un Capitano Una grande vittoria per una grande squadra È stato bellissimo Merito a tutti noi È il sacrificio di un anno È stato bellissimo Quindi Ora c'è solo da festeggiare e pezzare l'anno prossimo Parole da Capitano Navigato Proprio a questa È stato bellissimo È merito di tutti loro E soprattutto dei mister E lo staff tennis Della società Una vittoria da dedicare a chi? A noi stessi A tutti i sacrifici che abbiamo fatto Dai ragazzi Grazie mille Grazie mille Una dichiarazione per Abruzzo Golla Una soddisfazione che prova in questo momento Felicità immenza L'annata bellissima Anche pesante Difficile E comunque il coronamento di un sogno Che era cominciato l'estate scorsa E che finalmente è arrivata alla conclusione Le ragazze lo meritavano ampiamente Abbiamo cercato in tutti i modi Di dare il nostro apporto E come si dice Meritano tutti Merita anche la società Che abbia questa soddisfazione Adesso bisogna Dopo un po' di festa Pensare subito all'anno prossimo A questa nuova avventura In Serie B Non vorrei essere presuntuoso Ma sinceramente è una cosa che abbiamo iniziato A pensare già dal gruppo Sicuramente Lo immaginavamo Perché la squadra è andata così bene Se si pensi che oggi è appena il secondo pareggio Insomma Di un'annata tutte vittorie Quindi Era nell'ordine di dei che si arrivasse a questo E ci siamo riusciti E per cui noi già da prima abbiamo cominciato a far muoverci E a cercare Di trovare soluzioni Per un anno che è completamente diverso E molto difficile La B nazionale è tutta altra cosa Sicuramente Ma sicuramente Riuscirete a cavarvela anche Beh speriamo Ce la metteremo tutta Il vostro impegno E vi ha fatto anche il complimento Per aver avvicinato tanta gente A questa realtà Al calcio femminile Di cui magari si parla poco Però quando le società si impegnano Hanno i mezzi giusti Riescono anche a creare entusiasmo Attorno a questa realtà E vi ho fatto sicuramente un plauso Effettivamente Era il primo obiettivo di questa società Era creare entusiasmo E soprattutto cercare nuove ragazze E soprattutto ragazze molto giovani Questo era il primo obiettivo Poi insieme a un grosso lavoro tecnico Che sono soluzioni Sono venuti anche i risultati Ma dobbiamo dire la verità Il primo obiettivo non è nero La vincita di questo camionato Ma era proprio di creare Qui a Pescara La città più grande a Bruzzo Quel movimento che il calcio femminile merita Lo dico che merita questa cosa Perché i sacrifici Che fanno queste ragazze Che vengono da paesi e città Molto lontane da Pescara Sono sacrifici che nel settore maschile Non si trovano molto spesso Io sono rimasto meravigliato Due anni che sono in questa società E che mi occupo di calcio femminile Mi sono meravigliato Dei sacrifici che fanno le donne È una cosa incredibile I ragazzi non li fanno Complimenti Grazie In bocca al lupo quindi Per la prossima annata È una gioia incontenibile Queste ragazze se lo meritano Perché dopo un anno di sacrificio È il minimo che potevano fare È stata una partita dura Durante una fine Molto combattuta E alla fine anche un pareggio è bastato Si poteva fare qualcosina di più Ma siamo contentissimi così Perché l'obiettivo di vincere il campionato Con tre giornate d'anticipo Per fortuna è andata a buon fine Quindi contentissimi Tanti sacrifici per arrivare a questo risultato A chi vuoi dedicare questa promozione? Dedico questa vittoria a tutte le ragazze E a tutto lo staff che ha fatto in modo Che potessimo vivere in questa bella giornata oggi E niente Alla mia famiglia che mi supporta In questo spot fantastico E niente Non ho niente da dire Solo siamo contentissimi Speriamo che l'anno prossimo Di fare un buon campionato Per il prossimo anno ci sarà da attrezzarci Ma sicuramente La squadra diciamo che è abbastanza competitiva Anche così Ma sicuramente sarà fatto qualche nuovo innesto Perché ovviamente La qualità del gioco è sicuramente diversa Quindi qualche giocatrice di esperienza in più Non costerebbe Però abbiamo ottime ragazze Quindi siamo comunque felicissime Bene così Grazie 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 Grazie